Siamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sant'Orso, sono qui oggi a rappresentanza del titolo CCR per portare le nostre salute al protetto. L'attuale Consiglio Comunale dei Ragazzi è in carica dal settembre 2021 con l'intento di migliorare la partecipazione dei ragazzi alla vita del paese e nella nostra scuola. In questi ambiti siamo infatti impegnati con iniziative legate all'ambiente, alle comunità sociali, allo sport e al tempo libero. Recentemente abbiamo anche partecipato ad un incontro con altre CCR della provincia per riflettere tutti assieme sulla dignità delle nostre città e sul rispetto dei bambini e dei ragazzi. Grazie.